Papà, perché quel signore per strada l'era triste? Perché non aveva i soldi per i soppobbi. Era povero? Sì. Perché? Non so, Margherita. E ti tegai i soldi? Sì, Margherita, sì. Dormi. Bisogna combattere, non per trovare un posto in questa società, ma per creare una società dove valga la pena di trovare un posto. Essere alienisti significa essere dediti, anime e corpo alla rivoluzione, facendo di questa la ragion d'essere della propria vita. Io per hai che la ora desee ora al di, brusandosi i polmoni o peso anche. E pensate di risolverle tutti quanti voi altri, ste robe qua? Magari sì. In qualche modo. Cos'è sto quadro qua? Lienin? Ti vedo bene anche che lei, ma dico, occorreva metterlo qui, veniva appena dentro la porta. Ciaro? Obedisco. Te faresti meglio un'ara confessata? Che penserò? Colpisci ne uno per educarne cento, tutto il potere al popolo armato, per il comunismo, Brigate Rosse! La verità è che tu vorresti che noi vivessimo come voi. No. Che ci cercassimo un bel lavoretto e che pensassimo agli affari nostri. No, di questo mi... È questo che vorresti, papà. Ma and'è il che voleva arrivare? Vedremo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.